A 16 anni e risulta gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di un minore, un tredicenne residente nella provincia di Salerno, violenza che sarebbe stata compiuta attraverso il social network Instagram, avrebbe costretto un ragazzo salernitano ad inviargli foto e video che lo ritraevano nudo nelle sue parti intime. Per questo la sezione di Salerno del compartimento di polizia postale delle comunicazioni della Campania ha eseguito un'ordinanza cautelare che ha disposto il collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 16 anni residente nella città di Catania. Le indagini informatiche e le analisi tecniche eseguite sui device sottoposti a sequestro hanno consentito alla sezione della polizia postale di Salerno di individuare l'utilizzatore del profilo Instagram che mediante contatti telematici avrebbe contattato il giovane salernitano e carpendone la fiducia l'avrebbe costretto ad inviargli foto e video che lo ritraevano nudo. Ci troviamo di fronte ad uno dei sempre più frequenti casi in cui indagato e vittima non si conoscono se non virtualmente e che quindi risulta caratterizzato da una totale assenza di contatti per così dire fisici tra i due protagonisti e il commento del procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Salerno Patrizia Imperato sottolineando che indiscutibilmente la vicenda contemplata nel provvedimento cautelare eseguito ieri è sintomatica di un sensibile aumento degli episodi criminali a sfondo sessuale commessi dai minori ai danni di loro coetanea attraverso la rete internet. È per questo motivo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni con l'ausilio degli specialisti della Polizia Postale è costantemente impegnata nella quotidiana azione di contrasto ai reati compiuti per via telematica. Infine si evidenzia che la Polizia Postale in uno con la sezione di PG della Procura dei minorenni si prodiga in una serie di opera di prevenzione attraverso un'intensa attività di sensibilizzazione dei giovani. In tal senso gli appartenenti alla Polizia delle due sezioni sono da sempre disponibili a divulgare tra i giovanissimi una maggiore responsabilizzazione rispetto all'uso dei mezzi telematici e delle possibili insidie della rete attraverso incontri mirati presso gli istituti scolastici del territorio salernitano.